Abbiamo fatto un regalo con l'equipo che lupo con noi per la retrogradaria e mi buco perché noi eravamo insieme a un punto qui, perché alcune equipe avevano chance importanti per arrivare lungo noi. In prima ripresa abbiamo giocato così bene, trattando due o tre occasioni forti e buoni. In prima ripresa non abbiamo avuto nici noi, nici ieri, ocazie, in afara questa ocazia abbiamo sfarsi il match che potevamo luce gol. Mi buco, siamo inainte, abbiamo un match molto importante con Dinamo Sambata, e abbiamo fatto, fino ad ora, insieme con i baieti, una buona lavoro. Noi siamo stati, è stato a colo per l'ultimo lock, due luni in urma. Ci siamo stati con piccoli per il primo momento, e ci siamo in buco da questo punto, a quel momento. Grazie a tutti.